Buongiorno e ben ritrovati il 15 gennaio del 2021, vediamo cosa c'è oggi sui principali quotidiani del nord-est nel nostro paese, insomma un po' ovviamente la crisi di governo che tiene banco, poi c'è il giorno dei colori, dunque buongiorno, ben trovata Rossella, adesso aspettiamo qualche istante anche perché si colleghi qualcuno e vi racconto un episodio, ieri sera abbiamo condiviso anche sulla pagina Facebook questa piccola notiziola che pensavamo davvero fosse una bufala, un fake, invece purtroppo è tutto vero e tra poco vi racconto, buongiorno Rossella. Allora diamo un occhio a come si fa qua, così, per vedere se ci sono appunto, o forse li posso vedere anche da qua, Francesco ben trovato, ciao Giuseppe. Allora, quindi dobbiamo vedere, è il giorno dei colori, è il giorno dell'ulteriore avvicinamento e manovre di palazzo per capire se Conte avrà la maggioranza, si vota lunedì, poi martedì in senato, eccolo qua, forse qua li vede i commenti, e meglio come sempre. Riccardo, buongiorno, non ci dare notizie del virus immagino, buongiorno Ferdinando e buon lavoro, ciao tutti, bentrovati. Allora, abbiamo visto poche condivisioni negli ultimi giorni, Ferdinando è saltato il centralino di Palazzo Chigi, Aldo, bravissimo, arriviamo proprio a questo. Ieri sera è stata una puntata, insomma, anche surreale per certi tratti di ringa, perché non è facile commentare tutto quello che sta succedendo, noi lo facciamo da qui, lo facciamo con la nostra politica, lo facciamo ascoltando, vedendo le notizie che arrivano, e soprattutto trovando quel tipo di notizia come quella di ieri sera, condividete, adesso ve la racconto. Dunque, poi c'è il giorno dei colori, quindi oggi scopriremo, Laura, certo che tutto è possibile, non è strano, ma il problema è che viene raccontato, adesso la diciamo la notizia, cosa succede anche, ieri abbiamo raccontato come probabilmente era il giorno di dimissione delle due ministre, era un po' quello della vittoria di Renzi, una piccola vittoria di Renzi. Ciao Giovanni, da Turi, in provincia di Bari, bellissima terra, un abbraccio grande. Ieri invece è stato un po' il giorno della quasi vittoria di Giuseppe Conte, perché queste manovre di avvicinamento, i famosi responsabili che una volta si chiamavano Volta Gabbana, sui quali titolano un po' tutti i giornali oggi e che qualcuno chiama responsabili, altri giornali, soprattutto i centrodestra, chiamano Volta Gabbana, gli scilipoti, i razzi, insomma, di qualche anno fa, oggi si chiamano responsabili. Bene, comunque dai, oltre a questo poi vediamo anche il sistema vaccinazione, sapete, va un po' più a rilento che per garantire, l'abbiamo già detto anche ieri, la seconda dose, mentre l'Inghilterra pensa di fare una sola dose e di proteggere il maggior percentuale di popolazione possibile con quella, oggi c'è la bozza del DPCM. Poi c'è il caso Donazzan e un po' tutto questo, ovviamente, sui quotidiani. Quello che trovate in 8, 9, 10, 6 pagine almeno di apertura di tutti i quotidiani è la crisi di governo. Allora, martedì avrà 18-19 responsabili che sicuramente a gratis garantiranno la poltrona Conte, dice Simone. Fabio, ma com'è possibile che un paese sia ostaggio della cricca di palazzo senza dignità e senza l'appoggio della gente che vuole fatti concreti e non bollettini o bonus? Fabio, è il giorno, tra l'altro, non solo dei colori, ma quello della protesta, io apro, quindi abbiamo tante cose. Ferdinando, cosa ne pensa dell'autonomia veneta? Sarà possibile? Certo, ma sono passati quasi 1200 giorni nel nostro counter, quella cosa che ci siamo inventati di tenere lì per ricordare, 1180 credo ormai. E quindi quando arriva, di chi ne parla di questi temi? Quando li affrontiamo? Quando li decidiamo? Oggi, giustamente, come scrive Simone o qualcun altro, siamo qui appesi a questa crisi di governo. Bene, cominciamo. 15 gennaio 2021. Allora, partiamo ovviamente da questa notizia che davvero, ripeto, credevamo fosse una bufala, ieri l'ho verificata mentre eravamo in onda, l'ho vista al volo perché non l'ho trovata neanche sui giornali oggi, perché probabilmente c'è anche una dignità nel riportare le notizie, grazie a Dio qualcuno sceglie di non riportarle tutte. Dove l'ho messa? Che non la trovo più. L'ho condivisa sulla pagina ieri sera. Centralino di Palazzo Chigi, 14 gennaio, notizia riportata dalla DN Kronos. Una lenta marea che poi è diventata uno tsunami. Questa notizia è un virgolettato, tra l'altro, quindi una dichiarazione di qualcuno. Poi è diventata uno tsunami. Al centralino di Palazzo Chigi raccontano così quel che è accaduto ieri, nelle ore in cui alla Camera andava in scena la conferenza stampa di Matteo Renzi, mentre il leader di Italia Viva ed ex Premier ufficializzava l'uscita di scena dalla delegazione Italia Viva, dalla compagine governativa, il centralino della sede del governo ha registrato circa 300 telefonate, cittadini di tutte le età che chiamavano per dare il loro sostegno al Premier Giuseppe Conte. Questa cosa quando l'abbiamo raccontata ieri sera, ho letto questa notizia in diretta. A Ring, ovviamente hanno cominciato poi una serie di sms anche ironici, tra le telefonate, attenzione nel momento della commozione massima, poi spieghiamo perché leggiamo questa notizia, definiamola tale, tra le telefonate ha chiamato in lacrime, pregando il centralinista di riferire al Premier di non mollare, non abbandonarci, chi? Una signora di Palermo che ha chiamato in lacrime. Quindi pensate a questa tenerezza della signora che chiama in lacrime, la prego centralinista, dica al Premier di non mollare, buongiorno Elisabetta, le chiamate viene inoltre riferito, arrivavano da cittadini di tutte le età, mentre solitamente sono gli anziani a chiamare il centralino per mandare messaggi al Presidente. Quindi questa velina che esce da Palazzo Chigi, che ci dice che addirittura 300 persone da tutta Italia hanno chiamato il centralino del governo per dire no Conte non ci lasciare, non te ne andare, questa cosa qui con la signora di Palermo, la commozione, ma addirittura, quindi è anche rilevante dal punto di vista elettorale, perché non dice che chiama solo la signora di Palermo, di solito lo fanno gli anziani, no, qui ha chiamato un po' tutto il mondo dei possibili elettori, perché poi questa è un po' la chiave di lettura che ci danno di questo episodio da libro cuore, mandare messaggi, di solito lo fanno gli anziani, qui hanno chiamato cittadini di tutte le età. Allora, ma il problema, io sono convinto che questa cosa sia successa, e succede, succederà sempre, succede magari quando è caduto il sindaco Bitonci a Padova, qualcuno può chiamare, per carità, ma non c'è alcun dubbio, lo fanno ogni giorno. Ecco, ieri, ironizzavo con l'assessore Scocci Marro, ma ieri avete vinto la benzina agevolata, è una vittoria del Fruenzia Giulia, per esempio, per raccontare una cosa di questa regione, e siamo riusciti a ottenere che dall'Europa abbiamo vinto la causa, si può fare la benzina agevolata, non è aiuto, eccetera, eccetera. Bene, e quante telefonate ha ricevuto Scocci Marro per questa cosa? Perché è una vittoria importante. Nessuna, nessuna. Basezze da grande fratello. Abbiamo definito ieri il grande fratello di Palazzo Chigi, diciamo, con questo episodio da commozione, ma il tema è l'ultimo e che vi volevo dire, questa roba qui non sposta niente. Cioè, non è che siamo convinti di più o di meno che Conte sia la persona giusta a quel posto. Questa notizia inutile, diramata da Casalino appositamente per dire che ci sono 300 chiamate durante la conferenza stampa del Premier Conte per dire bravo, non te ne andare, ADN Kronos, che pensavamo, ripeto, fosse una bufala, è veramente ridicola. Cioè, perché non cambia di una virgola tutto quello che le persone pensano e che possono pensare da oggi e che possa incidere in qualche maniera sulla politica. Perché il sentimento sta nell'elezione degli ultimi tempi, probabilmente, forse con un po' più di credibilità. Per quanto simpatia possiamo avere per Conte? 15 regioni, quante sono ormai su 20 guida centrodestra, i comuni? Cioè, sta lì il sentimento. Non nelle telefonate del televoto per Giuseppe Conte. La storia della pagina Facebook di Conte con l'attacco a Renzi non è da meno. Sì, però quella, sono d'accordo, Giovanni, hanno detto che è un hacker, diciamo. Nessuno, anche, mi pare, il dirigente su questa famosa pagina che dice a Renzi a casa, io sto con Conte, quella foto comparsa sui profili ufficiali di Palazzocchigi e di Conte, dicono che si opera di un hacker. Va bene, andiamo veloci, dai. Allora, lunedì, quindi il voto alla Camera e martedì al Senato. Cioè, cosa succede? Conte, alla fin fine, va dritto come un fuso. Abbiamo detto, su questo almeno. Ciao Erika, andate allo scontro, andiamo alla conta, andiamo a vedere che cosa succede, perché tanto il voto abbiamo capito che non ce lo consentiranno, neanche chi è in nomination, chi esce. Non lo so chi è in nomination. Di sicuro esce almeno Matteo Renzi, ma non è escluso che possa rientrare in realtà ieri, siccome sia il Movimento 5 Stelle che il PD lo definiscono ormai inaffidabile, ormai inaffidabile. Dopo ci arriviamo al Io apro, Fabio. Ormai inaffidabile. è difficile che possa rientrare probabilmente in un nuovo governo. Col fatto di questo elogio degli scilipoti, che fa per esempio anche Gramellini in prima pagina del Corriere di Oggi, perché una volta era vergogna, oggi invece sono i responsabili. E questo cambio anche della semantica, cambio del nome, è veramente ridicolo ormai al punto in cui siamo arrivati. Perché se una volta erano gli scilipoti, i razzi li prendevamo in giro, erano comprati, erano venduti, oggi sono invece definiti responsabili. Quindi poi, sui giornali di oggi, si ricorda anche, come da voze di DPCM di ieri sera, del quale parleremo, quindi quello che succede da lunedì in poi, per esempio, si voterà il 20 maggio. Cosa? Le supplettive. Quindi qualora si debba fare qualche parlamentare mancante, lo si debba rieleggere, in un collegio, e soprattutto le amministrative. Quindi, se il 20 maggio nel nostro paese si vota supplettive e amministrative, mi spiegate perché in un paese in cui, comunque, non lo si è fatta l'anno scorso, non si fa campagna elettorale se non sui social, se non sulle televisioni, se non con incontri a distanza, non si può andare a votare. Me lo spiegate perché? Perché con le regole della distanza andiamo al lavoro, andiamo tutti i giorni in giro, andiamo a negozi dove c'è la possibilità, andiamo a fare la spesa, perché se tutte le cose di noi comuni mortali le possiamo fare, evidentemente rischiando, allora a questo punto non si può andare a votare, rinnovare un Parlamento e fare una legislatura, perché oggi è il 2021, è gennaio, la legislatura finisce nel 2023, tra pochi mesi ci sarà il semestre bianco perché i sei mesi prima dell'elezione del capo dello Stato, il nuovo capo dello Stato, della scadenza, diciamo la scadenza del capo dello Stato, non si possono più sciogliere le camere, quindi tra pochi mesi diciamo la finestra è questa, dopo l'estate non si può più andare al voto. E nell'arco di appena, cosa sono, due anni, due anni e mezzo, quasi tre, tra poco, abbiamo già cambiato due governi, questo sarà il terzo. E l'unica cosa che si conserva l'autoconservazione è Giuseppe Conte che probabilmente la spunterà anche questa volta. Va bene, oggi ovviamente si sfoga Ricoletta mi pare sul Corriere della Sera di oggi, quello dell'Enrico Stai Sereno, abbiamo detto un po' come avanti con Conte forse era il nuovo Enrico Stai Sereno, col cavolo, perché alla fin fine Conte la mette nel sacco a tutti, anche a Renzi, è l'unico che probabilmente riesce ad archiviare realmente la figura dell'ex sindaco di Firenze. Io apro come sta andando, si sa quanti hanno aperto, beh Andrea è stasera, cioè nel senso è dopo le 18 che si capisce, ma dopo ne parliamo. Quindi Letta dice è una follia di una persona, una follia assolutamente incomprensibile, nazionale, in uno stato di emergenza, come si fa? Questa è la definizione, diciamo, quello che l'ex premier dell'Enrico Stai Sereno dice ovviamente di Matteo Renzi che fa questa mossa. in tutto questo è stata licenziata la maestra negazionista quella di Treviso, la ricorderete molto bene, c'è una polemica perché il ministro Lamorgese vuole tornare a genitore 1, genitore 2, quindi voi immaginate questa stupidaggine quanto possa piacere a chi ha la gioia di chiamarsi papà e mamma, però vabbè, se è inclusiva è bene, se limita anche le mie libertà, ho sempre detto è sbagliato, lo strappo della follia di una persona, la politica non è una sceneggiata dice Enrico Letta, vi ho trovato la definizione. Sul DPCM ripartirebbero le crociere da lunedì, stop all'asporto come abbiamo detto e la scuola invece hanno detto ieri sera no Anna dobbiamo aspettare qualcuna qualche ora ecco oggi è il giorno dei colori lo dicevo, bisogna aspettarmi oggi pomeriggio. Sulla scuola a sorpresa ieri sera il governo in questo Consiglio dei Ministri che abbiamo seguito in diretta e vedremo poi stasera quali novità ancora ci saranno a ring alla fine ha detto a sorpresa che la scuola può ricominciare dal lunedì dal 50% in presenza fino al 75% e parliamo ovviamente delle superiori che sono quelle ancora in piena dad e soprattutto sono quelle che hanno dato l'occasione di litigio con i governatori che molte regioni hanno scelto di tenere chiuse o a distanza a distanza cioè con lezioni a distanza le scuole superiori il governo dice possiamo riaprire dal 50% al 75% Zaya vuole fare vaccino ai malati di tumore ma è impazzito come? certo lo fanno dappertutto qual è la novità non ho capito qual è la stranezza Barbara è proprio perché sono le persone che rischiano di più Zaya vuole l'arancione su questo non si è mai capito lui ha negato di aver chiesto la zona arancione o ha fatto negare comunque a Flor tra poco vediamo Zaya a proposito oggi c'è Palù quindi il professor Palù in diretta alle 12.30 è molto importante perché parlerà di vaccini si arriverà e verrà introdotta questa famosa zona bianca la cosa importante rispetto al passato è che non ci sarebbe più un conteggio sul fronte dei colori delle regioni che scopriremo oggi vi ricordo probabilmente Veneto resta arancione forse influenze Giulia va in arancione non ci sarebbe più quel dato sballatissimo in tutta Italia lo diciamo da settimane del numero dei positivi su tampone perché dipende da quanti tamponi per 100.000 abitanti fanno le altre regioni altrimenti non è confrontabile quante volte l'abbiamo detto invece acquisirebbero più importanza i dati dell'ospedalizzazione e oltre a questo c'è anche che verranno contabilizzati i tamponi rapidi ultimi due flash perché mi sono dimenticato Renzi oggi registra una battuta d'arresto ieri e invece Conte una vittoria perché addirittura Nencini fedele di Renzi ma è del partito socialista che ha consentito di dare il simbolo e quindi fondare il gruppo di Italia Viva all'interno del Parlamento si prenderebbe quel simbolo perché non è piaciuta la mossa di Renzi alcuni forse due o tre senatori di Renzi sarebbero pronti a fare i responsabili siamo alla nemese diciamo dell'assurdo l'ultima cosa il caso Donazzan scusate forse siamo andati lunghissimi anche oggi finisce come vi ho detto con quella mozione quindi martedì al voto in aula al Consiglio regionale quindi lei canta faccetta nera si arrabbiano tutti e l'opposizione con nove voti trova il decimo per poter presentare questa mozione di riserve che ed è il decimo è uno Zaiano quindi uno della maggioranza paradossalmente della Lega che se la prende perché si presenti per la democrazia questa mozione contro l'assessore Zaiano che ha cantato faccetta nera Zaia è furioso per questo il Consiglio è sovrano seguiremo e decideremo perché ovviamente ci sarà un dibattito oggi sul Corriere del Veneto trovate molto interessante è arrivata ieri a tutti noi la lettera dell'assessore Donazzan nel quale cerca di scusarsi ancora una volta e di spiegare ma dice la storia la scrivono i vinti ancora una volta quindi anche in questa lettera riesce ulteriormente come si dice in Veneto il taccone pezzo dello sbrego quindi a fare peggio forse rispetto a quello che sperava con questo obiettivo 41 a 9 sono le maggioranze centrodestra a 9 di opposizione in Regione Veneto servono 26 voti per salvare appunto Elena Donazzan e forse in questo caso chi mal sopporta Fratelli d'Italia chi mal sopporta questa malaparata chi vuole una rivincita chi ambisce a prendersi l'assessorato di Elena Donazzan potrebbe martedì addirittura dicono i giornali votare quindi far imbarazzare la maggioranza e costringere Zai a far fare un passo indietro Elena Donazzan dopo aver cantato Faccetta Nera quando si canta Bella Ciao tutti zitti va bene lo so benissimo Rosato ha dato la sua apertura a Conte fino a ieri era con Renzi adesso torna col PD Gabriele il discorso è che lì sono rimasti stupiti di una mossa che ho apprezzato francamente visto che con questo pugno di ferro che Conte non ha mai chiamato né prima né dopo la dimissione dei ministri Italia Viva o Matteo Renzi per un confronto e secondo me ha fatto benissimo perché così è andato al vedo e adesso quello che ha la strezza vera è Matteo Renzi perché voi credete che i responsabili non li troverà lunedì o martedì in Parlamento voi credete che questo Conte rischi davvero difficilissimo altro è discutere concretamente realmente dell'idea dell'ipotesi di andare al voto ma se anche non dovesse trovare i responsabili almeno più di 300 telefonate arriveranno di sicuro al centralino di Palazzo Chigi tra lunedì o martedì ciao buona giornata grazie a tutti